Il Faro della Vita è il nome del progetto per l'inclusività sportiva nelle scuole e nella pratica dello sport multidisciplinare del pentathlon moderno. L'iniziativa è stata illustrata nella sala consigliare di Pesaro alla presenza delle atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il pentathlon moderno. Un progetto molto interessante perché abbiamo deciso di partire da Pesaro per provare a inserire il pentathlon moderno tra gli sport parolimpici per cui cerchiamo di, è una proposta perché la nostra federazione sta lavorando sul settore parolimpico e noi abbiamo pensato bene insieme a Piattaforma Solidale di iniziare a promuovere lo sport e la disabilità sul territorio inserendo il pentathlon moderno che come sapete sono 5 discipline chiaramente non tutte saranno subito praticabili e per cui iniziamo dalle scuole e dai seminari per informare anche i tecnici e i docenti delle scuole sulla disabilità e lo sport come inclusione. Uno degli obiettivi che ci si pone con questo protocollo oltre all'inclusione di disabili come atleti nel pentathlon è anche quello di fare una mappatura degli impianti sportivi, non solo per quanto riguarda il comune di Pesaro ma la provincia e anche oltre perché le collaborazioni che è in piattaforma si estendono su tutto il territorio regionale. Grazie